Ultimo dei tre giorni della fiera di San Nicola. Dopo il sabato e la domenica, il lunedì saluta l'edizione 2022 dell'appuntamento di settembre tradizionale della fine estate pesarese. Una fiera di San Nicola che cerca di riannodare il filo un po' con l'epoca pre-covid. Ricordiamo le ultime due edizioni, quella 2020 cancellata dal covid, quella del 2021 ripartita con le limitazioni da mascherina e green pass. Quest'anno si è tornati alla normalità e si è tornati davvero con un record di ambulanti presenti, 550 in questa edizione della fiera. Si è trovato un po' di tutto, categorie merceologiche le più tradizionali, le più disparate. C'è stata anche la novità di uno spazio tutto dedicato alle bancarelle allestite dai bambini a ridosso della palla di pomodoro. Abbiamo raccolto un po' di pareri su questa edizione della fiera tra gli ambulanti, sia tra quelli tradizionali che frequentano la fiera di San Nicola davvero da tanti anni e hanno anche un raffronto con le epoche precedenti e con chi è arrivato per la prima volta. Sono dieci anni che vengo qui alla fiera. Quindi ha visto il pre-covid e questa ripartenza del covid, come sta andando? Adesso un pochino a rilento, però dai, quest'anno è andata anche abbastanza bene, la gente c'è stata. Siamo ai livelli pre-covid? No, forse adesso è anche il problema della crisi, però no, le fiere prima erano tutte un'altra cosa. Magari c'è più voglia di fare la passeggiata che l'acquisto? Sì, vedi una marea di gente a passare ma con le mani vuote. C'è davvero tanto passeggio, però gli acquisti sono diminuiti dall'anno scorso, davvero tanto. Oddio, saranno le spese che sono arrivate veramente alle stelle per tutte le famiglie, però meno acquisti ma tanto passeggio. Però io so che la fiera è molto sentita qui, quindi la gente viene apposta, paesi limitrofi, però c'è tanta 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 gente, bella gente, sottolineo. Non è come una volta, una volta una persona comprava due maglie, tre maglie, oggi come oggi, uno è, sono un po' frenato. Io penso meglio un piatto sulla tavola che una maglia in più. La gente c'è stata, sono contento, come è andata fino adesso, gente c'è stata. Poi nel mio articolo sono stato contento, dopo bisogna vedere agli altri, logicamente non è tutto uguale. Sono un ambulante abituale, sì, di Cattolica, noi siamo sul porto di Cattolica, normalmente facciamo anche la fiera di San Nicola. Ecco, quindi ha visto l'evoluzione della fiera negli ultimi anni, dopo l'esperienza col Green Pass, quest'anno si è tornati a regime pieno, c'è affluenza e l'affluenza risponde anche in acquisti? Assolutamente sì, siamo tutti contentissimi, ho parlato anche con i nostri colleghi e tutti siamo felici di averla rifatta ed è bella piena di gente, come si può vedere. Per lei invece è la prima volta alla fiera di San Nicola, dunque si riparte dopo il Covid e il Green Pass e quindi ha deciso di buttarsi in questa avventura? Come prima esperienza, anzi è la prima volta che vengo a Pesaro, anzi è una bellissima fiera, anche come tipo di lavoro è andato discretamente dopo il Covid, è andata ottima, da quello che ho visto io. Poi se l'anno scorso è stato migliore non lo so. Come prima esperienza la vedo benissimo dopo il Covid, ci può stare anche che qualcuno si è trattenuto per il fatto del Covid, c'è qualcuno che porta ancora mascherine, si trattiene, ma c'è stata una buona vendita. Tra i problemi di questa edizione della fiera, diversi ambulanti pesaresi, soprattutto quelli più tradizionali, hanno sottolineato l'elevato costo degli stalli da affittare per questa edizione della fiera. Vediamo cosa ci hanno risposto gli ambulanti che abbiamo ascoltato. Per i tempi di oggi sono proprio anacronistici, una roba esagerata, perché prima magari riuscivi a sopportare meglio, ma adesso i costi sono una roba esagerata. Perché venendo solo io, che sono da solo, che poi vengo da qui vicino, vengo da Orbino, 550 euro al posto, dormire qui, mangiare qui, tanto lavori dalla mattina alle 6 fino alla sera a mezzanotte l'una, la giornata ci deve uscire, quindi i costi sono esagerati. C'è stato questo riscontro, perché penso che adesso il caro Bolletta fa aumentare un po' i costi del prodotto e si vedono un po' i rincari e la gente dice, i commercianti si lamentano perché non c'è una grande vendita per il fatto dei rincari. Questo non è un problema di tutti, perché tanto è aumentato tutto di tutti, però speriamo di superare anche questo, dai.